Viene da fare una battuta che in realtà la partita ve la giocherete su tre parole, Umbria-Emilia-Romagna. Ma io le dico che l'Umbria e l'Emilia-Romagna la vinceremo e le vinceremo, dimostrando che in Italia c'è chi è bravo, come Salvini, a cavalcare i problemi e c'è chi è molto migliore a risolvere quei problemi e quindi vinceremo anche quelle regioni. E uno, senti le campane. E due E tre